Atene si ritrova a Cerchiata, il tour europeo alla ricerca di alleati per una rinegoziazione del debito si è concluso con un nulla di fatto. E alle pressioni arrivate da più parti, perché la Grecia mantenga i patti, si sono aggiunti oggi i moniti della delegazione statunitense, riprendete a collaborare con i partner. La BCE, che presto toglierà la terra sotto i piedi alle banche elleniche fermando i prestiti a basso costo, vuole un accordo in sede politica, ma il ministro delle finanze Varoufakis ha fatto sapere che, all'Eurogruppo straordinario di mercoledì prossimo, respingerà di nuovo l'allungamento dell'attuale programma. La richiesta rimane quella di un prestito ponte fino a maggio, i mercati però ci credono poco, Standard & Poor's ha riabbassato il rating della Grecia AB- a soli quattro mesi dalla promozione AB.